Ciao ragazzi, faccio questo video per spiegarvi che cosa significa l'aggettivo permaloso. Un utente sulla pagina Facebook mi ha chiesto di spiegare il significato di questo aggettivo, di questo termine molto utilizzato in lingua italiana. Sicuramente avete degli amici permalosi e permaloso si dice che una persona è permalosa quando se la prende molto facilmente e si offende con molta facilità, anche magari quando le viene detto qualcosa che non è poi volutamente offensivo. Io conosco diverse persone che qualsiasi cosa si dica loro, subito se la prendono, si arrabbiano, si offendono. Ecco, queste sono le persone permalose, quelle che se la prendono con tanta tanta facilità. Spero che questo video vi sia stato utile, continuate, mi raccomando, a farmi le vostre domande su dubbi grammaticali, lessicali, di qualsiasi tipo che riguardano la lingua italiana e sarò contenta di accontentarvi come meglio riesco, faccio del mio meglio insomma. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace alla pagina Facebook di Sgrammaticando, mettete mi piace anche alla pagina Facebook ImpariamoItaliano.com Vi invito anche a iscrivervi al gruppo Facebook Impariamo l'Italiano Insieme, un gruppo molto molto carino e utile per conoscere tante persone che studiano l'italiano e che vogliono impararlo esattamente come voi. Fate tanti esercizi anche sul sito www.impariamoitaliano.com e noi ci vediamo al prossimo video, un bacio!